Oltre Po, terra di Pino Nero Un gruppo di amici racconta la viticoltura dell'Oltre Po Pavese attraverso i suoi Pino Nero Da un'idea di Francesco Fabretti Cari amiche e cari amici, ben ritrovati nel salotto di Oltre Po, terra di Pino Nero Chi vi parla, come sempre, è Francesco Fabretti Oggi in compagnia di Cristina Cerricomi, proprietaria della Cantina Travaglino Buon pomeriggio Cristina Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito a questa interessantissima iniziativa Come tu ben sai, questo podcast inizia sempre con la stessa domanda Ovvero, che cosa significa fare vino, e nello specifico Pino Nero, nell'Oltre Po Pavese? Fare vino in Oltre Po Pavese vuol dire portare avanti una tradizione di famiglia Che è iniziata più di 150 anni fa, per passione, e è diventata la mia passione È un mondo meraviglioso e ho la fortuna di valorizzare tutte le fatiche e sacrifici che la mia famiglia E tutte le persone che hanno collaborato con la mia famiglia per tantissimi anni Hanno fatto, nello stesso tempo, in un territorio veramente meraviglioso Siccome stiamo parlando di un'azienda che ha una storia veramente molto importante Come ho evinto anch'io, guardando quello che voi scrivete nel vostro website Ci vuoi raccontare un po' la storia di questa cantina, partendo proprio a burbe condita, direbbero i romani? Travaglino ha una storia molto molto importante, perché risale al 1100 Addirittura la prima notizia certa è di un atto testamentario dove partecipò Giovannis de Travaglino E si tratta del 1100 E quindi le prime pietre della tenuta risalgono proprio a quell'epoca Che per tempo, per secoli, è stata di vita monastero Una volta ereditati i tria miliaria in circuito, i psiloci, come dice il testamento Che cosa succede dopo? Basta pensare che abbiamo delle notizie su Calvignano, che è il paese dove siamo Siamo in provincia di Pavia, sopra Casteggio, in seconda collina Quindi una seconda fascia collinare E Calvignano, le prime notizie risalgono addirittura al 1200 O meglio, già i vigneti di Calvignano risalgono a quell'epoca Con le cosiddette vignie novelle E tra l'altro il toponimo di Calvignano è Caglievitato Quindi via con ai lati i vigneti Quindi la storia anche proprio del comune dove siamo Parte veramente tanti tanti secoli fa E la villa quando si forma? Le prime parti sono del 1100 che era proprio la parte del monastero Poi si è implementata con tutta la parte, diciamo, della villa di oggi Che è una parte una cantina e una parte invece è della casa privata Nel 500 e 600 E la famiglia Cerri Comi quando entra in gioco? Entra in gioco con il nonno di mio nonno Ovvero? Vincenzo Comi Nel 1868 E da lì iniziò proprio l'attività dell'azienda agricola Poi iniziò anche a fare vino Anche se in realtà si faceva anche prima Ma ovviamente all'epoca dei frati non si faceva vino con il concetto di vino che c'è oggi Siete partiti subito alla grande perché leggo che il cavalier Vincenzo Comi acquista 810 pertiche milanesi L'equivalente di 53 ettari di terreno Non esattamente un fazzoletto Esatto, in realtà poi la mia famiglia è tutta di origini milanesi E lui era un po' appassionato di vino e poi si è veramente innamorato di Calvignano Che è un comune veramente molto bello Perché arrivi in questo comune alto totalmente aperto E la vallata sia a destra che a sinistra Vedi la provincia di Pavia e poi fin in fondo anche l'inizio della città di Milano Ed è veramente un comune meraviglioso E probabilmente sei innamorato del vino e di questo comune E ha rilevato questo monastero all'epoca Da lì comprò i primi in terreni E in realtà era ancora piccolina rispetto a come oggi Senti, io ho preparato del materiale che mi servirà per montare la puntata Principalmente delle immagini PNG, dei JPEG eccetera eccetera E nel preparare questo materiale Non ho potuto fare a meno di notare che il vostro stemma è veramente uno stemma molto bello Che cosa rappresenta e quando nasce lo stemma? Lo stemma è lo stemma della nostra famiglia Che portò in dote in realtà la moglie di mio nonno La contessa del sotto casa E rappresenta questo maniero che porta in dono una colomba alla contessa Ed è lo stemma di famiglia che poi è diventato lo stemma di Travaglino Ma la cosa incredibile è che lo vediamo proprio nella struttura Ovunque abbiamo questi stemmi di pietra enormi Proprio parte integrante sopra la struttura Ed è veramente molto affascinante Ed è anche molto bello avere una cosa così storica di famiglia Poterla valorizzare e farla diventare anche un brand Un brand storico ma nello stesso tempo attuale E poi la storia come prosegue? E poi prosegue che colui che sviluppò ancora di più l'azienda agricola E se possiamo dirlo la trasformò in una cantina vitivinicola È stato mio nonno Che negli anni 80 iniziò inizialmente una zonazione del terreno Che è la cosa più importante Perché studiò il suolo che avevamo Per andare a impiantare le barbatelle negli appezzamenti migliori Cioè quindi scegliere che tipo di vitigno veniva meglio in quella posizione E poi sviluppò tutta la cantina All'epoca c'erano tante vasche in cemento Che oggi abbiamo ancora perché sono parte della struttura Ma che oggi non utilizziamo più E lui è andato a sostituire tutte queste cose con le vasche d'acciaio Con tutte delle tecnologie un po' più moderne Per l'epoca ovviamente Era un po' il suo sogno Portare il territorio alla conoscenza di tutti Lui si occupava anche di un altro lavoro Non era la sua attività principale Era proprio la sua passione Questo era quello che lui voleva Tant'è che la sua concentrazione Che poi non è altro che poi anche quella che ha ereditato a me Era non svilupparla completamente la cantina Ma valorizzarla e fare poco ma ha fatto bene Questo era un pochino la sua attenzione Che devo dire che mi ha completamente tramandata E tu quando è che entri in gioco? Io entro in gioco nel 2013 Anch'io da un'altra vita Perché in realtà anch'io sono di Milano Ho studiato economia Ho fatto tre semestri all'estero Ho iniziato a lavorare in finanza Quindi tutt'altro Poi mi sono resa conto Che era un mondo un po' troppo astratto Per il mio DNA E all'epoca avevo mio nonno Che mi diceva ma travaglino 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 Io non avevo sinceramente capito Di che cosa avessi tra le mani Perché per me era un po' la casa in campagna Io andavo a giocare da bambina Vedevo le persone che vivevano all'azienda Ma non avevo capito L'importanza di travaglino nel territorio E non avevo neanche capito L'importanza dell'Otrepopavese Al che cosa ho fatto? Ho iniziato a studiare Da buon economista un po' il territorio Mi sono resa conto Che è una terra pazzesca Io la considero il paradiso alle porte di Milano E in questo paradiso Travaglino è una delle cantine più storiche Più prestigiose Dove all'interno vivono ancora le persone Che collaborano con noi Con le loro famiglie Ad oggi abbiamo 400 ettari a corpo unico Copriamo il 60% delle terre di Calvignano Il paese appunto dove siamo In seconda collina E quindi mi sono sentita un po' La responsabilità inizialmente Di portare avanti tutta questa tradizione Poi fortunatamente mi sono anche innamorata Perché obiettivamente è un settore pazzesco Meraviglioso Molto concreto Esattamente l'opposto da dove arrivavo io Che lavora un frutto che nasce dalla terra Che lo trasforma in un alimento Che cambia l'umore alle persone Perché quando uno apre una bottiglia di vino Comunque deve provare un'emozione Che tu gli dai Un'emozione che tu gli dai tramite cosa? Tramite il tuo territorio Io ho la fortuna di mettere Il mio territorio Nel calice E di condividere un momento di gioia Delle persone E dei gruppi di persone Perché poi a me piace condividere il vino Con gli amici Però anche quando sei magari alla sera Stanca Dopo una giornata affaticata del lavoro Apri una bottiglia di vino E di colpo Cioè ti torna il sorriso È una cosa meravigliosa Quindi mi reputo molto fortunata Questa gioia la condivideremo presto Perché oggi hai portato in assaggio Due bottiglie Una la conosco molto bene L'altra no E quindi sono decisamente curioso di provarla Quindi dai 53 ettari Grosso modo Le famose 810 pertiche milanesi del 1868 Oggi tenuta Travaglino Che cos'è? Quanto è grande? Nel corso della storia Si è un po' ingrandita Perché oggi noi abbiamo 400 ettari a corpo unico 80 ettari a vigneto 200 ettari a boschi 120 ettari a seminativi Abbiamo una locanda Con le camere e ristorante E abbiamo anche 13 cascine E un borgo storico Quindi abbiamo anche un importante Patrimonio immobiliare Da sviluppare Cosa si intende per cascine? All'epoca c'era il concetto Della mezzadria Quindi erano come proprio Delle case in campagna Che erano abitate dai mezzadri Alcune le abbiamo mantenute Ad oggi vivono delle famiglie Alcune sono in affitto Invece da famiglie Che abitano nelle città E le usano come seconde case in campagna E altre invece sono un po' Da restaurare Però il mio sogno nella vita È ristrutturarle tutte Per proprio portare avanti E far vivere il nostro paese Che è veramente un comune meraviglioso Quindi prima del termine Della mezzadria Quelle cascine erano abitate Da mezzadri Che lavoravano Per la tenuta Esattamente Anche questo dimostra Proprio come un'azienda Storica Perché tutto quello Che si faceva una volta Oggi c'è ancora Io dico sempre che Travaglino Un territorio nel territorio Come fosse un film storico Ad oggi ancora vivo È un film storico Che si vede Perché se uno viene a visitarci La respira questa cosa Ed è un film storico Anche perché è un brand storico Tant'è che è un marchio Registrato dall'Associazione Dei Marchi Storici Vogliamo spiegare Che cos'è l'Associazione Dei Marchi Storici? È un'associazione italiana Che raggruppa i marchi Che dimostrano Di essere storici Da almeno 50 anni In realtà poi per partecipare Bisogna dimostrare Di avere tante caratteristiche Che loro attestano E poi ti inseriscono Ma è la cosa bella Perché raggruppa un po' Tutte le eccellenze E i marchi italiani Non solo di vino Ma che raccontano La storia di questo paese E per me è un orgoglio Farne parte La cantina oggi È di mia madre Che è figlia unica E devo dire che Lei non se ne è mai occupata In prima persona Io sono entrata in gioco Quando c'era ancora All'epoca mio nonno in vita E quindi è lui Che mi passò il testimone Direttamente E poi mi ha seguito Anche mio fratello Qualche anno dopo E ad oggi siamo io e lui In prima persona Quindi è stato un passaggio Generazionale abbastanza snello La cantina al 100% Della nostra famiglia Allo stesso tempo Abbiamo una famiglia Abbastanza stretta Quindi è facile Portare avanti un bene Non ci sono troppe parentele Da mettere d'accordo E quindi la nostra mamma Devo dire che Sono molto riconoscente Perché lei ha capito La passione L'amore che provo In questo territorio E nella nostra realtà E mi lascia anche molto carta bianca Nel bene e nel male Ovviamente Però lei mi dice Questa cosa oggi è vostra E di conseguenza Voi oggi dovete decidere Come poterla portare avanti Così che domani Se sbagliate La responsabilità è comunque vostra Su 400 ettari 80 a vigneto E soprattutto I 200 ettari A bosco Mi fanno pensare Ad una conduzione Dell'azienda Che sia abbastanza attenta A dei valori Che in quest'oggi Sono piuttosto di moda Ma se c'è un bosco Per voi di moda Forse sono da molti Molti anni Ovvero Valori come La sostenibilità Nell'approccio aziendale Alla produzione In vigneto Ovviamente Con tutto quello Che la sostenibilità Agricola comporta Quindi la mia domanda è Facendo un salto temporale E arrivando ai giorni d'oggi Giorni nei quali Va molto di moda E dal mio punto di vista Anche con una buona ragione Parlare di naturalità E prendi questo Aggettivo Con molte virgolette All'interno dei vini La vostra cantina Che posizione adotta Nei confronti di questa Visione produttiva? Noi lavoriamo assolutamente Con un basso impatto ambientale Usiamo la lotta integrata Come tipologia di agricoltura Ma come hai detto tu La sostenibilità è oggi Un tema di cui se ne parla Ma in realtà è una cosa Che è sempre stata fondamentale Nel nostro mondo Se noi abbiamo questa terra Così sana Che ci dà delle uve Così belle Oggi è grazie Comunque a coloro Che l'hanno lavorata Prima di noi E il nostro compito È rispettarla Il più possibile Per far sì Che possa andare Avanti nel tempo E quindi generarci E quindi generarci altri frutti Ovviamente questo lo fai Per la terra Ma lo fai anche Per le persone Che abitano E vivono la terra Ogni giorno E poi di conseguenza Anche per avere Delle uve sane Dopo Uve sane Di qualità Che poi si traducono In vino Che poi Arriva ai consumatori Quindi questa parte È assolutamente fondamentale E come giustamente accennavi 200 ettari di bosco Sono un plus Notevole Che abbiamo Perché danno Veramente tanto ossigeno E un'altra cosa Che mi piace raccontare È che la nostra proprietà È tutta corpo unico Di conseguenza I nostri vicini Sono le strade Le strade Vuol dire Che non abbiamo Neanche contaminazioni Dagli altri Poi nel caso specifico Dei vignetti La lavorazione È abbastanza semplice Perché ovviamente È tutto lì vicino E anche durante la raccolta Durante la vendemmia Il tempo di raccolta Da quando si stacca il grappolo A quando arriva in cantina È minimo Perché le vigne Sono attaccate alla cantina Quindi la somma Di tante cose Fanno poi La differenza Senti ma Tornando un attimo Al vignone Completo Di 80 ettari È possibile Individuare delle zone Che potremmo chiamare Usando un termine francese Dei cru Abbiamo delle vigne singole Da cui ricaviamo Dei vini Che sono proprio Dei cru Perché tutte le uve Che servono Per fare quel tipo Di bottiglia Arrivano da quella Specifica vigna Quindi hanno tutte Come si può dire Il solito DNA Che per me Quando uno dice Perché un terreno È meglio O peggio di un altro Per me Non è meglio o peggio Per me Ogni terreno Ha le proprie caratteristiche Che le percepiscono Le radici delle vigne Che captano proprio Il DNA Di quello specifico Vigneto Che poi lo riportano Nel grappolo 2 Di conseguenza Che poi diventa Poi vino E lo ritroviamo Nei carici Ci occuperemo Nello specifico Dei cru Delle due vigne Da cui arrivano I vini In questione di oggi Ma ci puoi fare Una panoramica Di quali sono I vostri cru I nostri cru Uno per esempio È il Paggio della Putiniera Che è una vigna Proprio di pino nero Da vinificazione rosa Poi un altro È il Monte Ceresino Che è proprio Una vigna Al lato del Monte Ceresino A cui porta proprio il nome Che è sempre di pino nero Tra l'altro È la nostra vigna Più alta 350 metri Sul livello del mare Ed è la vigna Da cui ricaviamo Il pino nero Per fare il croasè Il rosato Quello che ci tengo A sottolineare È che è vero Travaglino è molto grande Perché sono tanti ettri Di cui ho tanta vigneto Però noi non li usiamo tutti Noi in realtà Selezioniamo Dai cru E dalle parti migliori Per una piccola produzione Perché in realtà Noi Mio nonno prima E io ancora di più oggi Ho sempre focalizzato L'attenzione Abbiamo sempre focalizzato L'attenzione Sulla qualità Quindi noi non utilizziamo Tutte le uve Selezioniamo Per una produzione Che si aggira Intorno alle 180 mila bottiglie Che su 80 ettari di vigneto Sono praticamente zero Ma ti dico sempre Siamo tanto grandi di estensione Quanto piccolini di produzione Mi considero una boutique Che ha sempre focalizzato L'attenzione sulla qualità Quello è l'obiettivo Fare bene E creare valore Fare valore Che è la testimonianza Del fatto Per la quale Tutta la nostra gamma È tutta denominazione Per noi è una cosa Molto importante Noi produciamo Metodo classico Tutto di OCG E invece i vini fermi Sono tutti i doc Per me è molto importante Per due aspetti Il primo Lato consumatore Perché avere la denominazione Avere la di OCG Vuol dire che noi Dobbiamo seguire Un attento disciplinare Che prima di imbottigliare Portiamo a Valore Italia I campioni Per farli testare Loro stessi dicono Sì è vero Avete rispettato Anche caratteristiche E poi anche la provenienza Delle uve Perché vuol dire Che arrivano tutte Dall'oltre papavese Nel caso specifico Di Travaglino Sono tutte nostre Di proprietà Noi seguiamo Proprio tutta la filiera Come si dice Dalla terra alla bottiglia Però comunque Avere la denominazione È indice di provenienza È una certificazione E dall'altra parte Credo che per realtà Come la mia Sia anche un po' Una sorta di responsabilità Territoriale E se vogliamo chiamarlo così Marketing territoriale Perché se produci bene E se produci Da tanto tempo In un posto Seguendo dei protocolli Di qualità Perché non devi dire 2,6 Come puoi sviluppare Un territorio Se non porti tu Per primo il nome Del territorio fuori Io su questo Ci tengo tantissimo E sono una sorta Di bandiera nel mio territorio Ed è uno dei motivi Per i quali ho deciso Di entrare in Travaglino Per valorizzare La storia della mia famiglia E per sviluppare Un territorio Che è incredibile Che ha tantissimo potenziale E che se si sviluppa È solo e esclusivamente Grazie alle persone Che lavorano dentro Le aziende Quindi riescono a far emergere Le aziende Che portano fuori il territorio Ovviamente Per poter aderire Con Veno Per poter essere certificati Di denominazione Origine controllata Nel caso Facendo una cosa O meglio Metà vasca Che viene colmata Che viene colmata Col mosto Che arriva Dalla pigia di raspatrice Per effetto di vibrazione E altra metà vasca Viene invece colmata Direttamente Con il travaso Delle cassette Coi grappoli interi Nella vasca Che tra l'altro Non so se sai Mi permetto Di inserire Questa piccola curiosità Che mi è stata Trasmessa Da quello che io reputo Il maggior Conoscitore Del vitigno Pino nero in Italia Ovvero Al mando castagno E mi raccontava appunto Che la vinificazione A grappolo intero In Borgogna Ha senso Perché Quando viene raccolto Il grappolo Essendo in Borgogna Non esattamente Agosto Perché bisogna attendere Che il grappolo Arrivi a maturazione Quando il grappolo Arriva a maturazione Contemporaneamente Il raspo Si secca Seccandosi Non circola più La linfa Quindi all'interno Del raspo Si creano Delle micro sacche Contengono ossigeno Per cui Vinificando A grappolo intero Queste sacche di ossigeno Vengono rilasciate Nel mosto E di conseguenza Abbiamo un vino Che in maniera Assolutamente naturale Subisce un processo Che potrebbe chiamare Microossigenazione E sappiamo tutti Quanto positiva sia La microossigenazione Esattamente Grande Armando Castagno Tra l'altro Questo è verissimo E poi in più Ci permette Di trattenere Il tannino All'interno del vinacciolo Che essendo All'interno dell'acino Chiuso Riesce con più difficoltà Quindi poi Il risultato finale Per un insieme di cose È un pino nero È un pino nero e un rosso Più piacevole Più morbido Più vellutato Più elegante Che l'eleganza E la piacevolezza È per noi La nostra identità È quello che noi Ricerchiamo in tutti i vini Tutte queste cose Di cui tu mi hai parlato In questo momento Come fate A trasmetterle Alle persone Che in qualche modo Potremmo definire Vostri Followers aziendali Non soltanto virtuali Ma anche proprio fisici La cosa che diciamo sempre È per conoscerci La miglior cosa È venire a conoscerci Proprio per questo motivo Noi siamo aperti Sette giorni su sete Per fare le visite Delle cantine Le degustazioni E poi abbiamo anche Una locanda Che invoglia Le persone A venirci a trovare Perché volendo A travenino Ci si può fermare Anche a dormire A mangiare Quindi diciamo sempre Veniteci a conoscere Perché è l'unico modo Per capire esattamente bene La nostra filosofia Oltre essendo noi Anche in un bellissimo posto Che al di là del vino È un comune Meraviglioso In un paesaggio Veramente mozzafiato In una struttura Molto affascinante Quindi oltre al vino È proprio un'esperienza Venirci a trovare Oltre all'Uganda Avete altre strutture ricettive Magari meno impegnative? Tutta la tenuta È una struttura ricettiva Tant'è che Proprio in vista Dell'enoturismo Gli investimenti Nel mio nuovo progetto Non mancano mai Sì lato cantina Ma anche lato accoglienza Quindi abbiamo Per esempio Appena ristrutturato Tutto quello che io definisco Wine Garden Che è proprio Un giardino All'ingresso della cantina Dove all'interno Si trovano Dei bellissimi tavolini Con i fiorellini Con la musica Classica Che accoglie E fa proprio venire Voglia di entrare In un'altra dimensione Quando ci si viene a trovare E con tutte queste vele Con delle zone in ombra Delle zone più al sole Ma proprio dove ci si può Rilassare Questo è l'obiettivo Rilassare Conoscendo Un settore Una realtà Storica Ma Venire a conoscere Come si fa al vino E questo per noi È molto importante Tant'è che appunto Siamo aperti tutti i sabati Tutte le domeniche Anche per eventi Travaglino Anche Tra l'altro Un parco Di tre ettari e mezzo Con piante veramente secolari Di ogni genere Dove tra l'altro Tra il parco E poi la tenuta C'è un ponte E sotto questo ponte Passa poi Tutto un recinto Enorme Che circonda Tutta la tenuta Dove all'interno Abbiamo una ventina Di daini I daini Erano la passione Di mio nonno E ad oggi Sono la nostra mascotte Per concludere Un'ultima cosa Che abbiamo fatto Per far vivere Il nostro territorio È abbiamo Creato Una nostra Big Bench Siamo parte Del circuito Delle Big Bench Project Vuoi dire Che cosa sono Le Big Bench Delle Big Bench Sono delle mega panchine Che sono un po' Disposte In tutta Italia E non solo La nostra è la 149 E l'abbiamo disposta In un bellissimo punto panoramico Ovviamente all'interno Di un nostro vigneto Che vede Proprio davanti a sé Tutta la vallata Con tutti i vigneti E in fondo Il monastero Quindi ha un'esposizione Veramente stupenda Ed è molto bello Sedersi lì sopra Perché si sente Piccoli piccoli Immersi in questa natura Mozzafiato Con questa bellissima vista E la cosa che mi emoziona Di più è vedere I weekend La coda di persone Che si vogliono Far coccolare dalla natura E fare una foto Su questa Big Bench Siccome ho visto Varie foto Delle famose Big Bench La mia domanda è Queste panchine Sono enormi Come si fa a salire? Abbiamo messo Delle mezze barrique Disposte al lato Per fare proprio i gradini Per poterci salire meglio Bene A questo punto Cominciamo a parlare Dei vini Che hai portato oggi Che sono Il Blanc de Noir Oltrepoppavese Metodo classico Pino nero Di OCG Millesimato Extra Blut Grand QV E il Pino nero Dell'Oltrepoppavese Riserva Doc Poggio Della Buttinera Ce li vuoi raccontare? Sono un po' L'espressione Del nostro lavoro In particolare Del mio nuovo progetto Quando io sono entrata In cantina Ho preso Travaglino Un pochino Come fosse una start-up E da lì Ho detto Benissimo Abbiamo una delle realtà Più importanti Di estensione Di storia Più prestigiose Del territorio Come facciamo A valorizzarla Ricordo che all'interno Vivono ancora Le persone Che collaborano Con noi Con le loro famiglie Il mio team Oggi È diviso in due Metà Mi ha visto Nascere E l'altra metà Invece ha iniziato Con il mio corso E il nostro progetto È quello di Valorizzare Il nostro territorio E per far questo Siamo partiti Da una razionalizzazione Della gamma Focalizzandoci Tanto su Quello che La nostra terra È veramente evocata E può fare la differenza E che cos'è È il pino nero Il pino nero Nella versione Rosso E nella versione Metodo classico Perché il pino nero Lì? Perché noi siamo La prima area in Italia Per coltivazione Di pino nero Ricordo sempre Che abbiamo Inoltrepo Pavese 13.500 ettari evitati 60% dei vini Della Lombardia Nasce inoltrepo E 3.500 ettari Sono solo di pino nero Facendone appunto Diventare la prima area In Italia Per coltivazione Di questo vitigno E la terza Al mondo Ed è tra l'altro Dove è nata Anche la prima Bullicina Metodo classico In Italia Quindi è una zona Dove questo vitigno È molto vocato E io ho la fortuna Di avere Questa realtà Importante Nel cuore Di questo territorio Quindi per me Lì si è concentrata Tutta il nuovo progetto E la nuova La nuova gamma Gamma che abbiamo Prima appunto Razionalizzato Nei vini Quindi facendo Determinati anche Investimenti in cantina E poi anche Nel vestito Che potesse Portare Il giusto valore Poi al vino Che c'è all'interno Quindi mi stai dicendo Che alcuni vini Che producevate Prima del tuo arrivo Ora non li producete più Esattamente E a me interessa Non fare tanto Ma specializzarsi Questo è un po' La mia idea Fare poco E farlo molto bene Noi vogliamo fare La differenza E dove la possiamo fare? Nel pino nero E quindi io Mi focalizzo Sul pino nero E quindi abbiamo parlato Di restyling Questo restyling Prevede anche Il logo E la grafica? Assolutamente sì Dopo aver rivisto Tutta la gamma Abbiamo fatto Un restyling Del logo Abbiamo aggiunto Un pay off Che per me È molto importante Perché è In calvignano Dal 1868 Un pay off Che insieme Al logo Travaglino Dà subito Dà subito Due messaggi Di storicità E in calvignano Perché tutto quanto Viene fatto In calvignano Che è il paese Appunto dove siamo Oltre al restyling Del logo Abbiamo fatto Il restyling Di tutte le etichette Etichette Dove il brief Per me Più importante È stato quello Di valorizzare La tradizione Ok Adesso allora Cominciamo a parlare Dei vini E per ogni vino Dei due Che hai portato Mi racconti Il restyling Dell'etichetta Da dove partiamo? Io partirei Dal metodo classico Allora raccontaci Un po' Partendo dal restyling Dell'etichetta Questa Grand cuve Allora Questo è il Grand cuve Che è un Blanc de Noir Quello che Noi abbiamo voluto fare Nel metodo classico È ripulire Avere un'etichetta Facile Pulita E elegante Che non vuol dire banale Ma proprio la semplicità Dell'eleganza E mettere tutti quei dati Fondamentali Per raccontare Questo tipo di vino Quindi il Grand cuve È un Blanc de Noir Perché è tutto Pino nero È un extra brut Perché ha solo Due grammi di zucchero Per litro Noi cerchiamo Di dosaggi abbastanza bassi Perché non vogliamo Rispettare La materia prima È un millesimato 2018 Nello specifico Questo vino Ha fatto 48 mesi Sui lieviti E quindi Questo è quello Che riportiamo In etichetta Niente di più Come viene prodotto Questo metodo classico? Il tutto parte Sempre in vigna Quindi selezioniamo Le uve migliori Abbiamo proprio Delle persone Che già in vigneto Selezionano I grappoli da raccogliere Ovviamente Non per questo vino Ma per tutta la gamma Si raccoglie a mano A mano in cassetto Da 20 chili I nostri vigneti Sono attaccati alla cantina Quindi dal tempo di raccolta Alla vinificazione Passa veramente pochissimo Giusto massimo Due ore Arrivano in cantina Le cassette Vengono versate manualmente All'interno di una pressa Una pressa che lavora A livello soffice E andiamo a estrarre Solo il primo 40-45% di mosto Poi facciamo la fermentazione In vasca d'acciaio A temperatura controllata Non facciamo chiarifica Non facciamo Manolattica Poi facciamo tiraggio Mettendo quello che sarà A divenire vino Insieme allo zucchero E lieviti E nelle bottiglie Lasciamo riposare le bottiglie In questo caso Per quattro anni Poi con il De Gourgeman Facciamo la sboccatura E da lì Poi riattappiamo il vino Aspettiamo un attimo Che il vino Si assesti Ed è Eccolo pronto A emozionarci Il Gran Covet È il primo Noi facciamo Quattro metodi classici Ma questo è il primo Dei quattro che è nato Quindi è quello che Io forse voglio più bene Perché è quello Un po' più storico È quello che a mio parere Rappresenta anche di più Il territorio nel calice E adesso allora Non ci resta che Buttare il naso Dentro il bicchiere E vedere un po' Che cosa ne emerge Quello che Diciamo emerge In maniera abbastanza Nitida Nel bicchiere Sono due Tre richiami olfativi Che io definirei Le cosiddette Dominanti olfattive Quegli odori Che è impossibile Che uno non percepisca Annusando E che instradano Chi ci ascolta A capire di cosa si tratta E in questo caso Le dominanti olfattive Sono un sentore Nitido di crema pasticcera Un sentore Molto chiaro Che rimanda proprio Al chicco d'uva E questa cosa Mi fa pensare Che si tratti Di uve Che sono raccolte Non proprio In pienissima maturazione Perché se no Non ci sarebbe proprio Spazio per fare Un metodo classico Ma comunque già Con un livello Di maturazione Piuttosto avanzato E unitamente a questa Percepisco Una sorta di Salsedine Potrebbe essere Più che l'ostrica In sé Un guscio D'ostrica Nel senso che Non è che io vado in giro A leccare i gusci D'ostrica Sia ben chiaro Però quando si mangia Ma quando si mangia un'ostrica Si percepisce Il sapore Che la parte interna Del guscio Rega con sé Che è in parte Il sapore dell'ostrica In parte Un sapore sapido Adesso sentiamo Al palato Come questi Tre Descrittori Si declinano Dunque nel palato Questo vino Prima di tutto Ha una Cremosità Data dal Perlage Decisamente Molto elegante E questo è un vino Che si Esprime una verità Di chicco d'uva Molto chiara Una sorta di Ampiezza Data da un richiamo Retro olfattivo Che ricorda quasi Il caramello Ma sottolineo Il quasi Direi il caramello salato E non credo Abbia niente A che fare Con eventuali legni Usati Non so se usate legni Prima della fermentazione Ma non è un richiamo Che è comunque Riconducibile a legni È un richiamo Più riconducibile Proprio alla metodologia Produttiva E probabilmente Al fatto che Ripeto Quest'uva sia stata colta In un momento Di maturazione avanzata Non di completa Ma avanzata È un vino Che sicuramente Soddisfa il palato E ha anche Una lunghezza Comunque di tutto rispetto Ci piace Bello gustoso Che ti viene voglia Di berne ancora Quello che penso Che questo vino Poi va bene Ogni occasione Della giornata Lo puoi bere All'aperitivo Ma ci puoi Pasteggiare perfettamente Questo vino davvero Dà gusto Al berlo E ti mantiene Attiva quella sete Che hai voglia Di riprovare Quindi sicuramente È un vino Di grande fascino Però Essendo io Un ex commerciante Ti devo fare la domanda Da un milione di dollari Ovvero Temo già di sapere La risposta Ma questo vino Sullo scaffale Di un enoteca Da che prezzo A che prezzo È lecito trovarlo In realtà Secondo me Questo vino Si trova dai 25 ai 30 euro Allora diciamo Che le mie memorie Da commerciante Cominciano a fare cilecca Perché io Avrei valutato Questo vino In una fascia di prezzo Esattamente 10 euro superiore Quindi dai 35 e 40 Perché li vale Sono d'accordo Anche perché Lo vedo poi Nei costi di produzione Quindi quando vuoi Fare qualità Vuoi fare la differenza Hai poi una differenza Anche nei numeri Però ad oggi Cerchiamo di investire Anche su questo lato Per farlo conoscere Ma ovviamente Dobbiamo voler bene Alla nostra terra E dobbiamo dargli Il giusto valore Quindi sicuramente Non sarà ancora Per tanto così Sbrigatevi a provarlo Finché siete in tempo Approfittatene Bene E adesso passiamo Al pinon nero Riserva Poggio della buttinera Introducilo Per i nostri ascoltatori Partendo dal restyling Visivo E poi entrando Un pochino più Nei dettagli produttivi Per tutte le etichette Abbiamo deciso Sempre di giocare Solo con i nostri elementi Abbiamo deciso Di portare proprio L'illustrazione Della nostra tenuta Che è un bellissimo posto Una struttura antica Estremamente ben tenuta E quindi Dà anche subito Un senso Una comunicazione Di dove poi Viene fatto questo vino Non conoscendo io La tenuta L'edificio che vedo In primo piano Sull'etichetta Che edificio è? È un ex monastero Appunto Dove una parte È cantina Una parte È casa E una parte Invece abbiamo dato Le case Alle persone che collaborano Con noi Con le loro famiglie Che vivono all'interno Della tenuta La cosa simpatica È che mi hanno visto A me e mio fratello Tutti nascere E alcuni di loro Sono addirittura Nati lì In casa Lì dentro Poi procedendo Nel vino Il poggio della buttinera È un cru Quindi è una vigna singola Che si chiama Poggio della buttinera Che è una vigna Noi nissuoli In azienda Sono prevalentemente Calcare argilosi In questa vigna C'è anche la presenza Di ferro e di sabbia Quindi è una vigna Un po' più scura Quindi si scalda Più facilmente E si asciuga Anche più facilmente Ed è una vigna Che parte proprio Con un clone Di pino nero Da vinificazione rosso Quindi c'è proprio Una selezione massima Già all'inizio La raccolta delle uve Anche per questo vino Ovviamente viene fatta A mano in cassetta Una volta che arrivano Le uve belle sane Belle croccanti In azienda Una parte di queste uve Vanno alla pigia di raspatrice Che lavora per vibrazione Che stacca perfettamente L'ascino del raspo E poi il mosto Va in autoclave Le autoclavi Che vengono poi colmate Direttamente Con degli altri grappoli Di pino nero Direttamente interi Per proprio tutto Quel processo Che abbiamo spiegato prima La fermentazione Avviene a temperatura controllata Poi passa il tutto Il legno Una parte in tonno E una parte in barrique Solo il 10% Del legno È legno nuovo Non vogliamo Che il legno Si senta troppo Dopo un anno Più o meno Assembleamo tonno Con la barrique Imbottigliamo E permane Almeno un anno Imbottiglia Prima di essere commercializzato Questa è l'annata 2019 Che è entrata Da poco in commercio Ma in realtà È un vino Che si presta Veramente bene All'evoluzione Se avete l'occasione Di comprare due bottiglie Riuscite una Lasciarla in cantina Per 20 o 30 anni Veramente non può Che evolvere bene Tra l'altro abbiamo anche Di questa bottiglia Sia il formato magnum Che anche Jérôme Bois Più grande la bottiglia Ancora meglio Si presta L'evoluzione Nella bottiglia Quindi Veniamo al vino Allora E sentiamo Di che cosa sa Al naso Senza Voler incorrere In una Sciocca classificazione Che mi porti a dire Questo è meglio di quello Quello è meglio di questo Anche perché io sono Uno strenuo Difensore Del concetto Di soggettività Nel gusto Per cui Sono perfettamente Conscio Che i miei gusti Sono soggettivi Si sono formati Nel tempo Con l'aiuto di Persone che mi hanno Insegnato A degustare Ma sono Suggettivi Non c'è niente da fare Detto questo Se io Cerco di richiamare La mente Tutti i pino nero Fermo Che ho avuto Modo di assaggiare Sia nelle vostre Manifestazioni Oltre po' Terra di pino nero Che voi Gruppo di amici Barra produttori fate Sia in queste prime puntate Questo pino nero E ripeto Questo aspetto Non è sinonimo Di qualità In senso assoluto Ma di categorizzare In un certo qual modo Quello che ci andiamo A trovare Nel bicchiere Ecco In questo senso Quello che troviamo In questo bicchiere È probabilmente Il più Borgognotteggiante Dei pino neri Che fino ad oggi Io ho assaggiato Inoltre po' Pavese Molto spesso Inoltre po' Mi è capitato Di bere Dei pino neri Fermi Clamorosi Ma tendenzialmente Più spostati In maniera Accentuata Sulla parte Fruttata Con questa bella Ampiezza Olfattiva Già subito Proprio Golosa E sono vini Che hanno Una loro Innegabile Piacevolezza Questo è un vino Che se dovessi Proprio scavare Nella memoria E cercare Un climat Avvicinabile Con tutto il rispetto Con tutte le differenze Con tutti i pesi E con tutte le misure A questo vino Direi Che è il climat Con quei suoi richiami Ematico Ferrosi Così nitidi Con questo profilo Quasi altero E un vino Che necessita Di essere conquistato Qui il pino nero Svela La sua parte Più femminile Più seducente Più Eterea E come si traduce Questo poi In senso olfattivo Si traduce nel fatto Che la frutta Non emerge In maniera così nitida Emerge come ho detto La componente Ematico ferrosa Emerge la componente Speziata Quella più Ricercata Quindi direi Ad esempio Non un incenso normale Ma l'incenso del monte Athos Un po' Di tabacco Balkan Sovrain Un po' Di sottobosco Fungino Questo è quello Che presenta il naso Adesso ti dico anche Quello che trovo al palato In bocca Si apre Questo naso Così ricercato Così compiuto Al contempo Così difficile Da dischiudersi Una volta che entra in bocca Si apre Magicamente Entra in gioco Anche una ciliegia Ma non una ciliegia Molto matura Non una amarena Qui parliamo di una ciliegia croccante Ciliegia ravenna Ovviamente La corrispondenza Gusto-olfattiva Non si nega Semplicemente Oltre a questo aspetto Oltre a questo aspetto olfattivo Più austero E più ricercato Si aggiunge Questa dinamicità Del sorso Che è data Dalla componente Fruttata rossa Chiara Quindi ciliegia ravenna Ribes rosso E da una componente Agrumata Chiaramente Non stiamo parlando Di limone Di lime O di pompermo rosa Qui parliamo Di un'arancia sanguinella Di un tarocco scuro Siamo In quella fascia Gusto-olfattiva Sicuramente Un pino nero Di grandissima soddisfazione Un pino nero Che mi permetto Molto modestamente Di consigliare Di sottoporre Alla vostra attenzione Un pino nero Per il quale Devo rivolgere Per l'ennesima volta La fatidica domanda Anche se Sono già da risposta In enoteca A quanto è lecito Trovare questo vino? Grazie Francesco Per queste bellissime parole Perché emozionano E quello che noi vogliamo È proprio I nostri vini Emozionare E quest'emozione A scaffale Si può trovare Dai 30-35 euro Siccome mi sono proposto Già da qualche puntata Di non commentare La richiesta economica Che voi decidete di fare Sui vostri vini Proseguo Su questa mia politica Perché se no Sembra quasi Che mi abbiate pagato Per parlarne bene E non essendo così Preferisco Tacere Però Mettiamola così Su questa fascia di prezzo Tra i pino neri Che conosco Ti posso dire Che a questo livello Mi possono venire in mente Quello della Elisabetta Dal Zocchio E la riserva di Gottardi Non il Gottardi normale Grazie per queste bellissime parole Sono contenta Perché noi stiamo investendo tanto Io sto investendo La mia vita Cioè ho fatto un cambio Di vita radicale Dalla città alla campagna Per portare avanti Una tradizione di famiglia Per valorizzare Le nostre terre E per far emergere L'Oltre Popavese Noi stiamo investendo tanto E sono felice Che tu lo riconosca Mi sembra Non ci sia Molto altro Da aggiungere Dopo questa splendida Degustazione Se non concludere Con le due domande Con cui concludiamo I nostri incontri La prima delle quali È Cristina Se un eno appassionato Dovesse decidere Di prendere la macchina E andarsene in giro Per cantine Perché dovrebbe venire A visitare La tenuta Travaglino? Innanzitutto Consiglio Alleno appassionato Di scegliere L'Oltre Pop Come meta Perché è un territorio Meraviglioso Ancora completamente Incontaminato Dove la biodiversità Ne fa da padrone E nell'Oltre Pop Deve scegliere Travaglino O anche Travaglino Perché è una delle realtà Più storiche È molto affascinante Da visitare Oltre che Proprio Più suggestive È un territorio Nel territorio E quindi Venire a trovarci E proprio Entrare in un film storico Ad oggi ancora vivo E tornare a casa Con un'esperienza E la seconda domanda è Il medesimo È un appassionato Se invece Che prendere la macchina E andare fuori città Prende la macchina E arriva in l'enoteca E nell'enoteca Volendo scegliere Una bottiglia di vino Trova bottiglie di vino A marchio Travaglino Perché dovrebbe scegliere Proprio quelle? Quello che io vorrei E che sto cercando E del mio progetto È far diventare Travaglino Sempre più Un marchio Riconosciuto Per qualità Credibilità Storia Certezza Concretezza Eleganza Piacevolezza Nel vino Dei vini Che stupiscano E portino Tutte le caratteristiche Incontaminate Del nostro territorio Nel calice Mi sembra Non ci sia Molto altro Da aggiungere Se non Ringraziare Cristina Cerri Comi Proprietaria Della cantina Travaglino Per la sua disponibilità Grazie mille Cristina Francesco Grazie mille a te Grazie a tutti quelli Che ci ascoltano E salutarvi Dandovi appuntamento Fra una settimana circa A risentirci E buon proseguimento di giornata Baby You give me ice and pie You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby You give me beer I don't want to jinx it baby And treat myself That's fine Don't want to overthink it baby Just treat your body A lasso Maybe you give me ice and pie You're If you take me I don't want to Ales Ales characteristics